Sono in diretta, non funziona questo fischietto, mi hanno dato un fischietto che non funziona, mi hanno dato un fischietto che non funziona, non funziona questo fischietto. Ci siete o non ci siete? Dai ragazzi che si parte fra un'oretta, poco più di un'oretta riparte, una puntata fortissima, abbiamo una serie di cose pazzesche, ci incazzeremo con Biden prima di tutto, con la guerra che ci porta a guerra, con i ladri di salute, con i ladri di casa, con quelli che stanno mettendo le mani sulle città, su Elon Musk, su Elon Musk mi scateno anche su quello, perché adesso che tutti fuggono, fuggono, perché Elon Musk c'è il mostro, grazie Giustino, c'è il mostro, Elon Musk, aveva un servizio sui ladri di salute, cara Antonella della Sicilia, pazzesco, una donna che aspetta un bambino e che gli danno la visita per il bambino dopo che il bambino dovrebbe essere nato, una follia, bravo Marco, bravo Marco, grande Marco che ha comprato i biglietti al Teatro Parioli, bravissimo Marco, 17 dicembre, Teatro Parioli, non dovete perdere, mi raccomando, vi aspetto, eh sì, calmine, Bassetti stasera, io ho una stoccatina, una stoccatina, 17 dicembre, 17 dicembre, oh, 17 dicembre, il Parioli, 27 gennaio Milano, guardate che sono due date uniche, per cui siccome appunto, come Roberto prima ha detto, stanti stanno prendendo biglietti, i teatri sono limitati, una serata unica a Roma, una serata unica a Milano, per cui, sì, abbiamo i cantieri, i cantieri ce li abbiamo, i servizi sui cantieri ce li abbiamo, la Sardegna, vi verrà se vengo in Sardegna, Milano, Roma, Alparioli e a Milano per il momento, a Milano al Manzoni, perfetto, quindi vi aspetto Milano e Roma, per il momento queste due, poi vedremo Trieste, la Sardegna, vediamo, dove trovo i biglietti per il Manzoni sul sito internet, sono già in vendita, sono già in vendita, li potete comprare, anzi, lo ripeto, forse conviene accelerare, perché siccome il teatro quello è, ho già visto che le prime file sono già andate da un pezzo, prime 5, 6, 7 file, quindi accelerate, sì, ti saluto Meli, ti saluto Meli e Torino, Brescia, non lo so, adesso ci sono questi due appuntamenti fondamentali, per cui vi aspetto intanto lì, poi stasera ore 20 e 30, mi raccomando, ciao a tutti, ciao, 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 grazie Benedetta, grazie. Grazie.